a partire la registrazione no perché solitamente faccio la faccina per poi schermare non me ne frega la mazza ciò che invece vi riguarda o che comunque sarà di vostro interesse è il verdetto che sarà in qualche modo stabilito dalle gare della domenica c'è chi scende c'è chi sale c'è c'è chi rimane c'è chi va male tutto questo lo scopriremo in qualche modo domani a che a che ora 20 e 45 no 21 vabbè prima della mezzanotte dai diciamo diciamolo pure e domani farà avrà la sua importanza anche la paura che scende in campo e come ha detto pioli vado a usare le sue parole perché mi sono piaciute tanto molto ha detto che la paura va va controllata e se la controlli ti scalda altrimenti rischi di bruciarti e mi piace mi piace quindi volevo utilizzarla ma c'è c'è una grana c'è una grana in casa mina secondo me una grave grana anche gra grave non sto parlando della grana e il formaggio ecco assolutamente altrimenti ci avrei fatto caso oggi oggi sono stupido cioè sono sempre stupido ma oggi non lo so sarà sto fatto che comunque me la voglio godere sono interessato e comunque non sono neanche stressato perché poi alla fine mi riguarda una mazza se vogliamo però cioè te la godi con la passione del del tifoso esterno tranquillamente ma ho ascoltato pioli ho ascoltato pirlo ho ascoltato anche miai lo vici tante tante cose nella testa ne parliamo insieme prima vi invito però scaricarvi la puan futuro perché poi voi non vuoi c'è da controllare tutto la classifica le statistiche magari volete la notifichina di una squadra volete stare lì aggiornate anche sulle varie news di mercato no perché poi si parte si parte anche per 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 gli spostamenti per i trasferimenti e compagnia bella quindi link in descrizione l'app come sapete è gratuita io partirei da da pioli è onestamente la grana è quella legata a rebic rebic che più più no che sì per un problema muscolare al polpaccio non si è allenato stamattina ma vediamo domani gli altri sono in buonissime condizioni questa è il decreto il decreto è quello che ha decretato pioli in conferenza e per me questa è una è una è molto grave è molto molto grave magari può essere pretattica può essere pretattica comunque almeno un tempo se lo se lo gioca perché dico che grave perché ragazzi è un giocatore è un giocatore che nel momento in cui ti manca ibra nel momento in cui manzo che ci non l'hai mai avuto per praticamente per per non l'intera stagione ma da quando è stato in qualche modo acquistato a nel cambio nel campionato invernale por mannaggia lingua calmati frenati bloccati e non l'hai mai avuto rebic diventa importante se pensi che poi il sostituto sia leao ecco leao l'ho avuto al fantacalcio ne so qualcosa e onestamente in quel in quel ruolo là per le caratteristiche ma non è sempre la caratteristica è una cazzata ecco sto di una cazzata perché per la caratteristica secondo me può fare anche lì la boa lì davanti perché ha fisico e strutturato però non riesce non riesce non è maturo abbastanza da 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 essere efficace in quella in quella circostanza in quello spartito non riesce ad essere efficace invece rebic vuoi non vuoi voi non vuoi lì lì qualcosa di buono lì qualcosa di buono lo tira sempre fuori magari no contro il cagliere abbiamo visto che lì magari serviva uno uno come come ibra però ovviamente sappiamo bene che contro l'atalanta sarà partita diversa quindi io credo voi non vuoi che l'assenza di rebic possa ahimè ahimè pesare ma detto questo ovviamente se la giocherà con gli altri e vedremo ecco non è che non è che poi bisogna stare lì a fissarsi perché ragazzi nei noi tutti io io su tutti poi ci ho fatto anche il video e non mi nascondo di certo prima della partita no tra l'atalanta e juventus ho ribadito no tiene fuori in questo caso parlo di pirlo tiene fuori ancora una volta di bala mette culusevski che in questa stagione ha fatto ha fatto male soprattutto per come l'ha impiegato pirlo perché culusevski non è un brocco come in molti vogliono far credere e invece poi ha avuto ragione perché culusevski praticamente è stato quello che gli ha risolto gli ha risolto la partita quindi chi lo sa magari lei ha domani noi ridendo e scherzando domani ti fa una tripletta quindi ci appelliamo sempre a quello che è il verdetto del campo è solo quello che decide qua quasi chiacchiera qua si chiacchiera si dice ognuno dice la sua io mi aspetto che voi diciate la vostra nei commenti ma ribadisco tutto va preso con le pinze poi nel calcio come al solito si è sempre si è sempre un po smentiti ma al di là della gravetevola andiamo andiamo davanti andiamo avanti perché mi è piaciuto un'altra considerazione di di pioli innanzitutto ha caricato a massa a in massa credo i propri tifosi quando ha detto e ribadito domani domani partiamo tutti perché come al solito si pensa sempre a ibra una cosa che un po mi mi infastidisce è che quando fanno le domande a pioli almeno su dieci tre sono rivolte a ibra e ma quanto da o l'ho sentito in tutte le interviste ma cazzo sì abbiamo capito che ibra è stata fondamentale ma in tutte le interviste gli chiedono sempre e ma ibra quanto è stato importante o ma sembra se l'ha detto 50 mila volte che è stato importante ancora una volta glielo dovete chiedere sempre io poi ascolto tutto è veramente ascolto mi metto ascolto tutto e tutti e ogni volta gli fanno tutti ce ne tutti e sempre su su ibra ribadisco non che si è sbagliato una due tre ma nell'arco del campionato non c'è stata una conferenza in cui non gli abbiano chiesto di quanto sia stato importante ibra per il minimo è la miseria e adesso gli chiedevano se partiva cosa se era un allenatore se stava vicino alla panchiera gli hanno chiesto di tutto sempre su sempre su ibra e per chiudere il discorso lui dice domani partiamo tutti domani partono tutti i giocatori 26 se non vado errato partono partono tutti 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 partono anche i tifosi anche se non saranno presenti ribadisce questo concetto molto molto deciso nell'affermare queste queste parole e mi ha colpito quando ha detto un voto alla squadra no levato no secco deciso aspro ma non un aspro da maleducato un aspro giusto dice le valutazioni si fanno alla fine domani è troppo importante i voti li darete voi non conta niente dove siamo oggi oggi saremmo meritatamente in champions ma conta dove saremmo dove saremmo domani sera conta dove saremmo domani sera importante è importante questa affermazione che molti danno per scontata perché giustamente dice vabbè è normale direte voi conta dove conta poi alla fine se vai o meno in champions ma qualsiasi altro allenatore poteva stare lì a dire tranquillamente no abbiamo fatto comunque un ottimo cammino andando a valutare quelle che erano le nostre rivali comunque ce la siamo giocati con tutti e poteva poteva in qualche modo alleggerire invece no lui secco e deciso dice no conta conta solo domani conta domani perché se domani non portiamo a casa il risultato e non andiamo in champions e le valutazioni saranno diverse saranno totalmente diverse capiamo c'è non è non è una cosa non è una cosa così così scontata andiamo su invece sull'altra panchina andiamo su su pirlo su mia e lo invece sennò qua il video dura 20 minuti su pillo ve lo faccio ascoltasse perché su pillo invece diametralmente opposto il giudizio perché lui dice non penso che la società deciderà il mio futuro in base a quello che succederà domani quindi per pioli se le valutazioni domani sono importanti di sicuro non sono importanti secondo pirlo il suo futuro legato alla partita di domani ho fatto una confusione ma vabbè perché mi piace questo lavoro quindi è normale che uno si riconfermerebbe perché piace lavorare piace avere questo questa adrenalina questa pressione perché a mi sono sbagliato l'ho chiuso vabbè questo diceva che gli piace va beh la potete trovare ovviamente su sky o ovunque su youtube trovate le parole di di pirlo comunque sì si riconfermerebbe solito il solito discorso ormai piace ai giornalisti questa questa domanda è molto molto gettonata lui dice tranquillamente di sì si riconfermerebbe e poi per il resto ragazzi non ho trovato spunti così interessanti da porvi da porvi da sottoporli alla vostra attenzione perché sostanzialmente pirlo usa sempre le stesse parole sempre la stessa cadenza lo stesso tono vede ronaldo come giocatore futuro della juventus le solite i soliti le solite mezze o comunque risposte abbastanza scontate che poi sono anche un po da pretà fungono anche un po da pretà che ci possono ci possono stare per non destare ulteriore ulteriore stupore se vogliamo interessante invece quando dice che danilo è il giocatore che più di tutti che più di tutti lo in qualche modo lo ha lo ha stupito in positivo ma in realtà anche qui se vogliamo lo sapevamo già perché la stagione di lanilo è stata qualcosa è stata qualcosa di sopra di sopra di sopra la media e la squadra deve essere deve essere in qualche modo concentrata sulla partita non deve pensare alla radio linea ma solite solite discorsi che conosciamo bene conosciamo conosciamo a memoria dall'altra parte troveranno un Bologna ragazzi guidato da Mialovic Mialovic che ha scherzato ha ironizzato un po tra il serio e il divertito in conferenza ha parlato di un sogno fatto tempo fa dove in qualche modo sognava 1-0-0 tra Bologna e Juve però si apprestava a battere un rigore di bala lui ha pensato se lo batte di bala forse perché è uscito Ronaldo e quindi magari siamo ai minuti finali della partita però poi si è svegliato e ha detto no ma non potevate svegliarmi perché non lo so che doveva andare a far non potevate svegliarmi più tardi almeno vedevo come finirà la partita quindi non sappiamo ci rimane un po' con la suspense vediamo se andrà davvero così domani o o o o o meno ecco fatto sta che i tifosi sicuramente vorrebbero vedere una Juventus fuori dalla Champions lo dimostra lo dimostra lo striscione davanti al centro tecnico no sbranateli addirittura questa questa è l'affermazione utilizzata dai tifosi e lo sappiamo bene come funziona per chi non è juventino poi la preferenza pare essere quella no di vedere una Juventus una Juventus fuori dai dai giochi vedremo vedremo indubbiamente come come andrà a finire non ci dimentichiamo che poi c'è anche c'è anche un'altra un'altra gara c'è il Napoli che gioca con il Verona io vi dico la verità non mi aspetto non mi aspetto in quella in quella gara non mi aspetto nessuna non mi aspetto nessuna come si dice in questi non mi aspetto nessuna nessun nessun ribaltamento di nessuna nessuna come si dice 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 nessuno va bene ho vinto nessuno non mi viene oh ci so quello non mi viene il cielo non mi viene vabbè e comunque comunque andrà Napoli sembra essere maturo da portare a casa i tre punti contro una squadra che poi onestamente oggettivamente non ha più niente da dare io leggevo una statistica nelle ultime otto gare se non vado errato ne hanno perse cinque pareggiate tre sto parlando del Verona di Juventus quindi è una squadra che ha mollato ma ha mollato di colpo non non perché domani poi in qualche modo si possa dire no ma il Verona ha mollato ecco almeno le precedenti gare lo abbiamo appurato quindi vediamo vediamo un po' e poi un Napoli che al di là dell'assenza di Koulibaly che comunque è un'assenza di tutto rispetto ma pare che Rachmani abbia comunque trovato le giuste misure in campo quindi domani vedo un Napoli completo tranquillo sgargiante per cui non dovrebbero esserci sorprese ecco sorprese sorprese gira rigira poi ti viene non mi aspetto sorprese ecco porca ladra scusate boccuccia mia lavati e sciacquati col sapone detto questo Baldi Giovani io vi auguro una buona partita per domani buona fortuna sia che siate tifosi milanisti, giuventini, napoletane buona fortuna a tutti voi e godiamoci questa domenica di Champions godiamocela e un grande abbraccio un grande abbraccio da Neschi va bene un grandissimo abbraccio